Rieccomi qui, anzi rieccolo direte voi, eccolo di nuovo lo youtuber sfigato youtuber è una parola che mi fa orrore, però quello che fa Videtti su youtube sfigato che gli fa un video su Ricky Duffè perché lui è importante, è famoso, il video gli è andato bene beh ovvio ragazzi che sono contento se il video mi va bene ma io voglio fare questo video, non volevo, infatti non ho voluto fino a ieri guardare neanche il suo video su Alessandro Orsini e le trappole argomentative perché sapevo che poi mi sarebbe toccato rispondere, non so stare zitto però ho voluto fare questo video perché come al solito trovo quello che dice Duffè molto interessante per moltissimi punti di vista e ne parliamo insieme dopo la sigla allora ovviamente l'obiettivo della critica di oggi è il video che Ricky Duffè ha fatto contro Alessandro Orsini parlando delle sue fallace argomentative, quindi le fallace argomentative di Alessandro Orsini che trovate sul suo canale e come mi capita spesso di dire, come è capitato per esempio di dire nell'ultimo video io sono d'accordissimo sul contenuto, quello denso del video, ovvero sulle fallace argomentative in sé sono d'accordissimo perché in effetti queste fallace ci sono e Duffè che è un abile analizzatore le sa scovare, sono fallace che le persone commettono ragionando quindi io voglio impostare così questo video, voglio partire da quelle fallace argomentative usate di Orsini su cui mi trovo d'accordo con Duffè e poi andare nei momenti più critici, negli argomenti più critici allora partiamo da due di queste tre fallace perché Duffè dice Orsini quando va in tv commette tre fallace una è quella del rifugio della complessità l'altra è quella del portatore di verità che lui chiama l'artificio o l'appropriazione del noi e l'altra è quella dell'ediropiuismo che è fantastico come espressione ma lui è sempre bravissimo a coniare queste espressioni partiamo dall'artificio o l'appropriazione del noi la fallace è il portatore di verità e ne parla Duffè a proposito dell'intervento credo a Piazza Pulita in cui Orsini parla col giornalista ucraino in collegamento da Kiev e pretende di saperne più di lui su cosa vogliono i bambini ucraini questa è in effetti una cosa abbastanza singolare e Orsini gli dice Putin ci ha già sconfitto in Ucraina ha già vinto tu parli a nome anche dei bambini ucraini tu che stai a Kiev secondo te loro preferiscono che l'Europa li inviei più armi? e quindi cosa succede? dice Duffè con questo noi con questa demarcazione di un territorio argomentativo a favore di un noi creato ad hoc si fa un atto di fagocitamento del buono del pacifista e quindi ci si prefigura come quello che pensa ai bambini e questo dice Duffè è un atto di bellicosità argomentativa una trappola fantastico questo bellicosità argomentativa è fantastico e il giornalista ucraino non ci casca nella trappola perché si vede costretto a provare che guarda io ho qualcosa di più su cosa vogliono i bambini ucani ne so più di te ecco e dice Duffè quando imponi il noi fa un atto di invasione del discorso conquisti un pezzo del territorio e questo mi trova d'accordissimo molto interessante anche questa analisi chi si sottrae a quel noi divenne automaticamente un guerra fondaio e questo accade spesso è vero quindi qua davvero complimenti a Rick come al solito per aver colto un punto però sono partiti dai punti su cui sono d'accordo ricordiamoci poi c'è il le dirò piùismo c'è una duplice funzione dice Duffè di quando si utilizza l'espressione le dirò di più che è un po' antipatica quindi ci rimani un po' antipatico quando la utilizzi e sono più propenso a crederti al contrario funziona perché se tu mi rimani antipatico con le dirò di più mi snoccio i titoli che non ho dico ma io non posso andare conto a professore e qui c'è sotto traccia velatamente la fallaccia ad auctoritatem e quindi qualsiasi concessione dice Duffè Orsini non se la lascia sfuggire aggiunge questo le dirò di più e polarizza lo spettatore polarizza lo spettatore e non solo c'è un altro effetto gli consente questa strategia di ricacciare e rilanciare con forza le proprie argomentazioni in risposta a un'obiezione e dice Duffè se non riusciamo a riconoscere con Orsini o chi per lui questi stratagemmi rischiamo di cadere in trappoloni stratagemmi studiati questi per accapararsi con senso dello spettatore sproveduto mi sono mai chiedersi come sono finito a pensarla come Orsini o Duffè fantastico perché ci si mette anche lui ma lui si sa che è molto anche oggettivo il pensiero critico non è quello di chi guarda il mondo e critica e qui c'è ancora riferimento a Fusaro che deve essere un'ossessione per me se lo sogna anche la notte a mutandine che gli va davanti al letto Fusarone se non vi fornisco io di strumenti per individuare queste cose e voi rischiate di polarizzarvi di diventare degli zombie e meno male che c'è Rick meno male che Rick c'è fantastico perché che è la premessa di cui parte Rick che è un po' la premessa di tutta la sua opera di divulgazione la sua mission filosofica online è semplice cari miei meno male che ci sono io siete tutti imbecilli quindi io cerco di indirizzare i vostri pensieri di farli ragionare ingranare nel modo giusto non indirizzare nel senso non indirizzare nel senso vi porto dove voglio io no, il contrario cerco di farvi ragionare in modo giusto meno male che c'è Duferre porca miseria come avrei fatto senza Duferre veniamo al primo punto il primo punto che mi trova ecco qui inizio a scricchiolare ecco su questi due sono d'accordissimo sul primo punto nel merito sono anche d'accordo non analizziamo è quella fallacea logica che Duferre chiama il rifugio della complessità fa sentire Duferre un pezzo di audio della piazza pulita parentesi fantastica questa cosa di fare video argomentare con pezzi di frasi pezzi di audio ma ci torneremo pezzo di audio della piazza pulita in cui Orsini dice a Mario Calabresi di Repubblica che non ci ha capito niente di quello che diceva perché diceva Orsini Putin non bisogna provocarlo e mandare armi in Ucraina non farà altro che aumentare l'escalation quindi non farà altro che peggiorare la situazione in Ucraina quindi dice Orsini è sbagliato mandare armi e ovviamente Bonduferre con il suo copiancolla molto preciso riduce tutto il ragionamento a una frase e Orsini ha detto che aggiunge che il suo pensiero riguardo all'Ucraina è complesso è fatto di più parti e in effetti questo lo dice dopo che per un quarto d'ora va spiegato aggiungo io cosa aveva evinto dai suoi studi sugli scenari di guerra precedenti eccetera e dice Rick la complessità non va a corrente alternata secondo Rick Duferre fa molte semplificazioni Orsini e fa sentire un altro audio dice lui no la complessità quando pari a te perché in realtà quando ti attaccano dici io ho un pensiero complesso e poi da altre parti semplifichi molto altro audio pezzettino copy and call l'Italia deve rompere con l'Unione Europea fare una declarazione ufficiale dice Orsini in cui si dice che abbiamo sbagliato tutti noi e la Russia e Orsini dice se un'idea cretina per esempio tutti gli italiani diventano razzisti bisogna rompere con quell'idea inoltre bisogna riconoscere dice Orsini a guerra in corso e Donbass alla Crimea alla Russia ma è perché una semplificazione questa io questa cosa mi sfugge no va bene il ragionamento tutti gli italiani diventano razzisti quello vabbè lasciamo perdere però lui Orsini in virtù dei suoi studi mi fermerebbe ma tu sei succube dell'autorità di Orsini una fallacia doctoritatem no non sono succube ma io riconosco l'istituzione il valore dello studioso io riconosco caro Riccardo il valore delle persone di quello che hanno fatto di quello che studiano il valore del lavoro delle persone quindi non è che se ascolto Orsini mi viene da polarizzarmi con Orsini no però lo rispetto gli do valore non lo tratto come lo scemo no non dico che lo fai attenzione non mi commentate lo so che poi siete precisi però molti lo fanno in Italia purtroppo infatti questo video l'ho voluto fare perché non sopporto questa tendenza di screditare lo studioso quando parla a noi comunque lasciamo perdere Orsini in virtù dei suoi studi dice che secondo lui sua opinione opinione ragionata opinione evinta magari anche in modo improprio ma per carità previnta da scenari di guerra precedenti da suoi studi eccetera dice che l'Italia secondo lui dovrebbe rompere con l'Europea fare una dichiarazione ufficiale in cui dice che abbiamo sbagliato tutti nella Russia e che bisognerebbe riconoscere la Russia Donbass la Crimea e farla finita qui con la guerra dice Orsini no? questa viene fatta passare per una semplificazione come dice Rick Duferre un po' perché siamo in tv e quindi in tv si semplifica lo riconosce Rick Duferre è naturale no? però dice lui non puoi presentarti come uno che ama la complessità poi quando uno ti attacca semplificando in tv e poi quando uno ti attacca dire no no ma io faccio le cose complesse in effetti dice Duferre se vuoi fare cose complesse non vai in televisione se non sei in grado di sintetizzare questa complessità e questo sono d'accordo è una semplificazione però questa è messa questa che dice Orsini perché è fatta passare attraverso una semplificazione che è pezzettino audio e Duferre dice che dietro a questa semplificazione di Orsini c'è una strategia poi ci arriveremo alla prima parte del video perché è quella più interessante è precisa e mirata ma aggiunge Orsini e questo è un pezzo criticato da Duferre che la responsabilità politica di questa tragedia è principalmente dell'Unione Europea politica perché poi Orsini nello stesso intervento all'inizio aveva fatto una serie di premesse in cui diceva responsabilità bellica è tutta della Russia io non posso essere anti-Nato anti-Ucraina eccetera però questa parte viene tolta la responsabilità politica si viene fatto passare il pezzettino copia e colla e principalmente dell'Unione Europea era la guerra più prevedita del mondo dice Orsini lui l'aveva predetta nel 2018 io sono scettico sempre nei confronti delle previsioni però l'aveva predetta e poi dice Orsini c'è una legge della politica internazionale che non so quale qui poteva specificare in effetti è un po' vago che impedisce ai paesi confinanti di adottare una politica minacciosa e quello che Putin sta facendo oggi all'Ucraina dice Orsini è la stessa cosa che Kennedy ha fatto a Castro nel 62 e qui entra in campo Rick to Ferre dice che queste sono una serie di cazzate storiche come ha fatto notare Fubini e Fubini in effetti gli dice guarda amico caro dice Orsini gli USA nel 62 non attaccarono Cuba di fronte all'ipotesi no? l'installazione dei missili nucleari l'attaccarono prima dico io con la bella di Porci ci provarono però altri discorsi non attaccarono Cuba e quindi Orsini ha sbagliato a dire che ovviamente quello che sta accadendo con la crisi di Ucraina è uguale è analogo è uguale anzi scusate è uguale a quello che è successo con la crisi di Cuba poteva dire analogo quindi poteva fare delle contestualizzazioni perché in effetti una qualche analogia per il senso che io ho evinto dal ragionamento di Orsini può esserci e poi è ovvio che se ci si attiene alla parolina utilizzata in televisione cioè è come è uguale magari uno voleva intendere un'altra cosa vuole dire analogia non penso proprio che Orsini sia talmente ignorante dal punto di vista storico da non sapere che qui la Russia ha attaccato l'Ucraina e gli USA non attaccheranno Cuba quindi è ovvio che dietro sul ragionamento c'era qualcosa di più e che si è sbagliata a esprimere perché è una cosa che io dico sempre e che ho detto anche in un video dedicato tutti diciamo puttanate clamorose ho fatto un video no? l'imbecilità è una cosa seria dicendo esordendo dicendo sono un imbecille perché? perché quando faccio video anch'io tiro fuori una serie di cazzate clamorose perché quando si parla quando si scrive è più difficile perché ti ha ragioni ma quando si parla uno è preso da parlare deve vedere mille cose magari deve essere ed è messo in fronte a cotta di tutto deve pensare a quello che ha detto l'avversario deve ricordarsi non solo può scrivere cioè c'è una serie di cose chi è bravo chi è più bravo a tenere l'argomentazione ne commette meno di questi errori chi è meno bravo come un professore che non era abituato ad andare in televisione a parlare per poco tempo essere messo in fronte a gente che l'attacca così magari fa degli errori quindi io qua ecco diciamo che Duferre si sofferma sull'uguaglianza se stiamo alla legge d'uguaglianza è ovvio che le cose non sono uguali ma qual è l'argomentazione di Rick Duferre? il buon Duferre non ci dice nel video che le cose non sono uguali come vi ho spiegato io ora perché come ha detto Fubini perché Fubini lo fa notare gli usa non attaccherono Cuba l'argomentazione di Duferre è se non capite che questa argomentazione è falsa e il parallelismo con Cuba è sbagliato è artefatto significa che dovete riaprirvi un libro di storia contemporanea e qui siamo in presenza di una prima fallace argomentativa del pro del Duferre non ci spiega perché il parallelismo è sbagliato ricorrendo a fonti storiche fatti eccetera anche se potrebbe farlo perché lui è un grosso esperto di tutto quindi lui è ovvio che ragazzi ma è ovvio che Duferre sa benissimo che è successo con la crisi ad emissi cubani mica come noi stronzi che l'abbiamo studiato al liceo ci abbiamo fatto un esametto magari all'università no lui la sa ragazzi la storia la sa non è mica come noi scemi e allora se la sa la storia no potrebbe farlo di spiegarci ma non ce lo vuole fare non ci vuole dare questa concessione perché perché a contrario di noi poveri ignoranti lui ci chiama zombie ma ignoranti è la parola giusta è un grosso esperto quindi la sua argomentazione è che quello che sta che Putin sta facendo oggi all'Ucraina è la stessa cosa che Kennedy ha fatto a Castro è falsa perché dovete aprire il libro di storia questa è una grande argomentazione questa vedete come la premessa no è antecedente alla conclusione e poi ne parleremo di questo tipo di fallacia e questa cosa potrebbe essere invalidata in realtà come ha fatto Fubini come vi ho detto io ora però l'argomentazione di Orsini in effetti era più complessa cioè quando Orsini dice la mia argomentazione è più complessa perché spesso si vede ridurre le sue argomentazioni a semplificazioni anche all'interno dello stesso contesto televisivo in cui le ha espresse infatti infatti lui aveva detto che al tempo dice lui Orsini io non le so queste cose le saprà Orsini che le studia ragazzi non è autorità non tiriamo un ballo all'autorità è uno che le studia da 30 anni magari qualcosina ne saprà poi magari un altro esperto in materia potrà contadillo per carità ma non io ecco però lui dice Kennedy fece un accordo segreto con Khrushchev io tolgo i missili Jupiter dalla Turchia e tu li trovi da Cuba e quindi lui dice andava fatto un accordo segreto anche in questo caso tra le potenze occidentali lui recentemente ha detto l'Italia che doveva smarcarsi dalla UE eccetera e la Russia ragazzi può essere che sia una strategia anche se l'ha detto uno che commette fallacce argomentative e ci torniamo in fondo al video e dice Dufair che c'è da parte di Orsini una strategia argomentativa volta a sostenere le proprie posizioni giocando sull'ignoranza storica degli italiani su questo argomento e questo può essere d'accordo perché in effetti se tu non ti spieghi bene e non dici il perché hai creato quell'analogia no? con Cuma ragazzi chi non sa la storia sono in molti in Italia in effetti no? casca dal pero però non sono tutti scemi come qualcuno può far pensare il popolo ma a me piacerebbe perché io sono uno guardate sono uno che ho sempre mazzoportato la parola popolo la parola gente con tre G però mi sono reso conto che cretini cretini non sono tutti purtroppo nella mia esperienza parlando con le persone con chi lavora la gente oggi ha modo di informarsi una sua posizione sarà da fare Duffer direbbe sì ma se la fai in base a questi trappoloni vabbè ma non sono tutti cretini c'è qualcuno che ci casca nei trappoloni qualcuno no eccetera chiusa qui Orsini secondo Duffer semplificherebbe quando gli conviene questo può essere vero quando Orsini gioca nel campo del contraddittorio dice lui va lì per semplificazione oppure in assenza del contraddittorio va al comizio verissimo con questa strategia ha chiappe polarizzate anti UE perché è giusto che se io ce l'ho contro l'Unione Europea ed è vero trovo uno che finalmente mi fa capire che ha sbagliato la UE che c'è una responsabilità politica di situazione allora io mi polarizzo ma questo succede sia con chi usa tappole argomentative sia con chi non le usa non è che uno deve forza le tappole argomentative se tu parti già prevenuto contro l'Unione Europea è normale che ti polarizzi no? quindi però molto bene questo passaggio di Duffer e l'altra fallace argomentativa questa è fantastica che Duffer attribuisce a Orsini è se non hai capito è colpa tua cioè secondo Duffer Orsini va in tv espone le sue idee uno gli crea una polemica e Orsini risponde eh ma se non hai capito è colpa tua ma è la stessa cosa che ha fatto Rick sopra cioè la stessa cosa no che ha detto su Cuba ha detto su Cuba ve lo ripendo il passaggio ha detto ma questa cosa se non sapete perché è diversa ha saputo il libro di storia cioè se non l'avete capita è colpa vostra e mi sembra che la stessa fallace argomentativa si riutilizzi con Rick Dufer e quindi dice Rick Dufer giustamente c'è una ripolarizzazione con l'argomento sull'ignoranza non è che gli spettatori del canale di Rick Dufer che sono moltissimi conoscono bene la storia come Rick Dufer che lui la conosce benissimo non la conoscono tutti no e quindi è normale che se Rick Dufer ti dice non è così leggetemi il libro di storia cazzo ha ragione Rick Dufer dai figa cazzo è normale che uno va no nella direzione ecco quindi mi sembra una strategia che dice Rick Dufer è una strategia argomentativa molto forte che funziona in televisione e aggiungo io su YouTube dice Rick Dufer poi la complessità è un dato non è una strategia o sono sempre complesso e quindi non vado in tv se voglio ricostruire la complessità no che roba è questa? cioè se io sono sempre complesso non vado in tv se voglio ricostruire la complessità no poi sono d'accordo che devo essere bravo a trasmetterle in modo semplice difficilissimo eh è veramente difficilissimo e io ho sempre riconosciuto per esempio a persone come Rick Dufer questo tipo di bravura Rick Dufer è uno che parla della complessità non è uno scemo ripeto per l'inizio di una volta mai bisognerebbe dirlo ed è uno molto bravo perché lo sa divulgare in modo semplice quindi non semplificando ma rendendolo accessibile e questa è una dote una soft skill direbbero gli anglosassoni che piacciono tanto a Rick che è una dote che ovviamente non è che l'acquisisci tanto facilmente deve essere tua lui ripeto ha fatto studi anche in teatro quindi c'è tutto un modo di stare davanti al pubblico importante oppure dice Dufer se vado semplifico accetto le prezioni sulle semplificazioni altrimenti è una trappola è vero ma c'è sempre enorme difficoltà secondo me a condensare quando si va in tv il complesso nel semplice e questi erano i tre punti argomentativi questo video viene lungo ma l'ha fatto lungo lui poi mi tocca commentarlo io non volevo ascoltarlo infatti il video ho detto non l'ascoltare non l'ascoltare i video d'orsini invece sono qui allora passiamo all'inizio del video cioè questi tre punti Rick Dufer per la gran parte della durata del video però fa una serie di premesse allora parte dicendo così oggi parliamo di Alessandro Orsini che ha opinioni controverse è uno dei modi accentici dal linguaggio forbito il suo successo ha dei motivi precisi e qui Rick mi sembra di sentire Fusarone mi sembra di sentire Fusarone ma come mai? è come Fusaro che dice il turbo capitale il turbo il turbo parenzo il turbo capitale è il turbo successo che ha dei motivi precisi non conoscendo le sue reali intenzioni dice Rick perché ci sono delle reali intenzioni e questo a Rick ma è un complottismo atlantista questo mi sarebbe mi verrebbe da dire un atlantista è una scemenza però un complottismo pari a quello di Fusaro io quando Fusaro venne ospite lo invitai per parlare ad Arezzo avevo un'associazione culturale lo invitai e io non è che lo invitai per starla a sentire lo invitai per criticarlo mi diverte fare così infatti sto sul cazzo lo invitai per criticare e gli dissi scusa Diego ma questo capitale non ti sembra una cosa un po' forzata questa manona che sta dietro muove le robe cioè il marxista mi sembra un po' un complottista di natura ma uno che mi dice che è successo a motivi precisi che non conosco le sue reali intenzioni boh mi sembra un esordio complottista e poi aggiunge Orsini e Tassero che mancava all'avvelenamento informativo di quest'epoca Orsini è controverso come un Fusaro qualsiasi di nuovo Fusaro vedete che è fissato ma molto più ambiguo ben controllato ben educato molto più difficile da delimere a me sembra Fusarone anche controllatissimo educatissimo facile da delimere sì abbastanza però educato controllato personalità molto Fusaro sembra un pazzo con la bandana con la granata in mano viva la Russia personalità molto deferente dice Rick Duferre contenuti molto polarizzanti e insidiosi al netto di quello che esprime dice lui Rick Duferre è il modo con cui lo esprime che è costruito in modo preciso e quindi mi interessa non il contenuto dice Duferre ma il modo e poi aggiunge conoscere metodi con cui qualcuno argomenta il sistema di autodifesa lo zombie è uno che finisce nelle trappole di qualcuno perché manipolato dalle idee e qui credo mi citi non lo so se pensa a me Riccardo fammelo sapere perché lui dice convincesi che qualcuno dice la cosa giusta perché cazzo è famoso un professorone a me è successo in questi giorni dice lui con video su cacciare i caribetti in cui l'unica vera obiezione visto che mi hai commentato può essere la mia non lo so che ho trovato online le mie critiche ma chi sei tu povero piccolo personaggetto che produce contenuti online ha in realtà loro hanno scritto tomi importanti e lui dice capite quindi bisognerebbe andare al netto delle questioni io ovviamente ripeto ribadisco rispettare il lavoro di qualcuno la storia culturale l'appartenenza a un'istituzione rispettare le istituzioni non vuol dire essere succubi di un principio di autorità no lo so che l'autorevolezza più che l'autorità si costruisce con l'argomentazione anche con la bellezza questo sarebbe un altro grande discorso nel senso che un poeta a me sembra autorevole perché scrive cose belle o un musicista perché compone cose belle beh non è necessaria l'argomentazione infatti Duffet riduce sempre tutto l'argomentazione ma questa è una grande questione che andrebbe affrontata in effetti con Riccardino però io sono d'accordo che non si può soggiacere al principio di autorità ma se uno fa parte di un'istituzione no non potrà dire solo cazzate io questo è il mio punto anche Orsini con Orsini potrai non essere d'accordo ma che noia ti dà cioè è un grosso esperto non sarà lì per caso farlo parlare se non sei d'accordo la sera cena con tua moglie la tua compagna eccetera o il tuo compagno e dici questo Orsini mi sta sul gozzo non lo sopporto ma che noia da cioè perché bisogna trovare sempre degli errori ecco questo non concepisco quando parla l'esperto quando parla un personaggio famoso rinomato Ganiberti Cacciari non ci si limita a dire non sono d'accordo pur apprezzandone il valore culturale no devo trovare degli errori perché? perché io sono più bravo di lui e quindi devo trovare gli errori che fa per in qualche modo ergemi in modo superiore a lui e questa è un po' l'operazione che fa sempre con arroganza con supponenza non dice come penso di dire io come provo a dire io rispetto il lavoro di tutti poi è ovvio che con quello che scrive Fusaro non mi trovo d'accordo ma perché devo ritenerlo non scemo no? addirittura citarlo come non filosofo come fa sempre lui perché devo ritenere cacciare i Ganiberti gente poi ci arriveremo anche voglio riprendere un pezzettino gente che dice puttanate che ha detto ma perché? tutti diciamo cazzate a Rick tutti soprattutto chi non ha dietro di sé una storia culturale istituzionale come queste persone sulla guerra in Ucraina è più probabile che dico cavolate io che Orsini sulla filosofia è più probabile che dico cavolate io Galimberti o Cacciari ma questo non vuol dire che non le dicano loro ma di base i partenzi è più probabile poi certo che anche io a me piace andare contro l'autorità chi segue il canale lo sa non sono uno affatto si occupa dell'autorità in niente di quello che faccio però bisogna avere anche rispetto delle istituzioni siamo in un'epoca in cui le istituzioni non valgono più nulla e personaggi che fanno parte delle istituzioni delle università eccetera non valgono più nulla perché possono essere non solo confutati o smentiti ma quasi sbeffeggiati come dimostrano le faccette di Rick quando fa sentire l'audio di Orsini perché quello Rick non è critica onesta sincera oggettiva pacata e moderata quello è dire ma sei un povero scemo cioè la faccetta parla il viso parla lo so che tu non diresti mai qualcuno me l'ha scritto ma Rick non ha mai detto che cacciare i ganimberti sono coglioni ragazzi ma si vede li si legge in faccia letteralmente quindi non lo so approcci diversi Rick forse mi accusa questa è la risposta eccetera allora le premesse di Rick Duffet però vi ricordate ora lui ha detto all'inizio video che è di questo video su Orsini che a lui interessava la forma il modo in cui Orsini diceva le cose non il contenuto perché sul contenuto dice lui fate come vi parli ma lui si sente in dovere dopo aver detto che nel video parlava di forma di mettere le mani avanti dice metto le mani avanti e perché? perché se mette se parli di forma Rick se parli se fai una critica disinteressata alle fallacce argomentative su cui sono d'accordo lo ripeto giustissimo quello che ha detto perché metti le mani avanti? preme Orsini dice lui dice molte cose sbagliate lo dicono i contenuti che poi non tratterò nel video ma lo devo dire ma se i contenuti non li tratti nel video perché lo devi dire? perché l'ho letta io così ma dimmi se sbaglio è una premessa politica questa a quanto ho annusato Rick Duferre naviga nella zona più Europa calenda quella zona politica lì non che sia scritto però come idee politiche amicizia con Boldrin c'è tutti i personaggi che io stimo pur non appartenendo a quella quella tradizione però stimo per carità e quindi questa è una premessa presente e politica dice lui la pensa a contare di lui su Putin su tantissime cose e qui si accende in modo velato devo dire subdolo al filo putinismo di cui tutti accusano Orsini anche questo è una falace argomentativa in questo modo tu fai intendere che se da momento che tu reputi Putin il male credo Orsini non la pensi così e che quindi ci sono un certo filo putinismo ma in realtà Orsini non ha mai detto cose filo putiniane quindi anche qua c'è una fallace argomentativa la pensa a contare di lui su Putin cioè tu vuoi parlare del metodo del modo con cui sei primi Orsini però fai queste premesse di contenuto che polarizzano già a inizio video i tuoi spettatori e ci torneremo dice Lufer non credo che l'Unione Europea come dice lui abbia gran parte delle responsabilità sulla guerra in Ucraina credo che la responsabilità ricada per questa grande maggioranza su Putin sulla Russia e su altre cose ad esempio l'ho detto nel video su Dugin e Galimberti che cazzo c'entrano Dugin e Galimberti oi qua ragazzi oi oi non credo che l'Unione Europea abbia gran parte della responsabilità sulla guerra va bene opinione legittima ripeto l'opinione di uno studioso per me vale più su questo argomento specifico della tua e della mia però libero di pensarla credo che la responsabilità ricada per la stagante maggioranza su Putin sulla Russia e altre cose voglio fare ancora una promessa non perché lo studioso ha più autorità perché se un atto studioso dice una cosa diversa ce ne sono tantissimi ben venga non bisogna appiattirci io infatti ho fatto un video sulla guerra nucleare dicendo io sono nella posizione del non lo so perché c'è gente che le studia queste cose ma chi sono io per saperle chi di che è la responsabilità eccetera lo vedremo lo vedrà ricostruito a livello storico e poi ci sta insomma il video su Galimberti vabbè e quindi non mi metto io a fare come fa lui il copia e incolla ehm di quello che ha detto Urzini però e neanche di quello che ha detto Rituferle eh infatti ho voluto fare un video lungo per un po' riassumere il suo video ovviamente poi lui si esprime in centinaia di migliaia di ore online quindi ovviamente ha un pensiero più complesso come mi è stato fatto notare sotto il video precedente ovvio ma lo so anche da me ragazzi ragazzi me però io sono a parlare di questo video e parlo di quello che ho sentito allora la conclusione qual è da questo argomento? che Dufair analizza le trappole che Urzini mette in campo nel contraddittorio ma argomentare cosa vuol dire no? perché Dufair dice noi quando parliamo dobbiamo sapere argomentare argomentare vuol dire preservare la verità della premessa lungo l'intero tragitto inferenziale ma argomentare non vuol dire una cosa sola esistono tanti modi di argomentare e Dufair lo sa benissimo esiste la deduzione che è quella a cui più si richiama Vic Dufair esiste l'induzione ed esiste l'abduzione io posso dire anche un'altra cosa esiste anche l'intuizione che non è un elemento argomentativo però è alla base delle argomentazioni lo diceva anche Aristotele negli analitici secondi quindi esistono diversi modi no? di operare delle inferenze e di preservare la verità della premessa lungo il tragitto inferenziale la differenza tra deduzione induzione e abduzione vuol dire porta a dire che un ragionamento può essere valido deduttivamente e anche incorretto oppure può essere invalido deduttivamente ma corretto induttivamente o abduttivamente sono tre modi inferenziali che non vanno molto d'accordo perché la deduzione va da premesse a conclusioni la forma classica quella sillogistica aristotelica promessa maggiore minore conclusione la abduzione segue una legge che è la regola caso inferenza io trovo un sacco di fagioli accanto a un tavolo e il fagiolo sul tavolo non ho visto cosa succese e dico ma sicuramente sto fagiolo è cascato dal sacco ce l'ha messo qualcuno dal sacco questo è un caso perché non ho visto la relazione che lega il sacco al fagiolo c'è una regola ovvero che assumo io tacitamente che il fagiolo viene dal sacco e c'è un'inferenza che io traggo questa è l'abduzione poi c'è l'induzione l'induzione vuol dire osservo x cose che sono andate in un certo modo e elaboro una legge che dice che le cose andranno con una certa probabilità in quel modo quindi ci sono tre modi diversi no? di impostare le argomentazioni Dufair sbaglia nel considerare gli argomenti di Orsini invalidi e non corretti a mio avviso perché possono benissimo essere invalidi dal punto di vista deduttivo ma corretti per esempio da quello abduttivo e induttivo ad esempio la frase sul comportamento degli stati cioè Orsini dice guardate che ci sono delle strategie che gli stati mettono in atto da sempre e quindi vi posso dire io avendole studiate che anche in questo caso succederà questo ecco questa è una regola induttiva non è deduttiva le fallacie argomentative ci sono anche per l'induzione però questo ragionamento può essere deduttivamente invalido ma induttivamente corretto non vuol dire che necessariamente lo sia perché l'induzione ha come grosso limite che non può provvedere futuro sulla base degli esempi analizzati perché c'è questa fallacia induttiva per appunto che riguarda il numero di casi osservati non è che se io osservo 10 mele rosse so che tutte le mele sono rosse tutte le mele che vedo in vita mia sono rosse no perché posso imbattermi nel controesempio e quindi si può avere una inferenza e questo Dufer non lo fa questo distingue non lo so per semplificare boh non lo so un'inferenza invalida deduttivamente ma corretta dal punto di vista deduttivo per esempio uno può dire come ha fatto benissimo Dufer Orsini ha commesso dei loro argomentativi dicendo questa cosa degli stati e poi però si verifica se si verificano le previsioni che ha fatto Orsini Orsini nel 2018 aveva previsto che la Russia aveva attaccato l'aveva previsto su un video youtube alla camera dei deputati mi sembra no? l'aveva previsto metteva il dito sulla crisi diceva attenzione a questa crisi magari aveva sbagliato argomentare magari tante cose non era necessario che accadesse ma è accaduto e quindi quel ragionamento ovviamente a posteriori risulta magari invalido dal punto di vista deduttivo ma corretto e Dufer facendo questa lunga premessa su Orsini che fa inizio video e ho voluto affrontare in fondo cioè la premessa di contenuto sulla figura di Orsini sul contenuto non limitandosi alla forma dell'argomentazione come era obiettivo del video come spesso le capita con personaggi noti per esempio Galimberti credendo di mettersi al riparo dalla fallacia d'Octeritate ne compie un'altra che è la fallacia ad hominem la fallacia ad hominem vuol dire aggiungere una premessa prima di vicinare il contenuto che mette informazioni aggiunge informazioni sulla persona che sostiene una certa tesi in modo da screditare il suo parere e le sue tesi questa è la fallacia ad hominem io sarò uno che succube dell'autorità ma non è vero però facciamo finta di sì ma te Riccardo sei uno che succube dell'hominem commetti fallacia ad hominem la fallacia ad hominem ha la seguente struttura ricordate due premesse e una conclusione la struttura silogistica A sostiene che P A è F la conclusione se A è F allora A ha torto questa è la fallacia ad hominem analizziamo alcune argomentazioni di Dufay perché questo video si chiama gli errori argomentativi di Ricc du Fer scusate dovrei bere ci vorrebbe come in tv1 che ti porta l'acqua allora dice Ricc du Fer l'Italia deve stacca ah dice scusate questa è la frase no di Orsini frase di Orsini premessa maggiore l'Italia deve staccarsi dall'Unione Europea rompere con l'Unione Europea detto lui premessa minore che è quella che si vince a video di Du Fer Orsini nel contraddittorio o in tv tende a spensipificare conclusione non è giusto che l'Italia debba staccarsi dall'Unione Europea e riconoscia Putin d'Obbas e Crimea e qui ragazzi non è vedete come la verità non viene preservata dalla premessa minore che è quella che porta diceva Aristotele la ITA del ragionamento la causa nella conclusione perché se tu dici che Orsini in tv tende a ipersemplificare ci fai tutto un video sopra non vuol dire che nel contenuto nel merito l'Italia non debba o l'Italia non convenga fare come suggerito da Orsini capite? cioè l'Italia dice Orsini deve staccarsi dall'Unione Europea riconosce Donbass e Crimea Putin ma Du Fer dice ma Orsini quando dice queste cose alte ipersemplifica e quindi la conclusione è che non è vero che non bisogna andare diretta che la frase che ha detto non è vero non è giusta l'Italia deve staccarsi dall'Europea non è giusta non è vera non lo so io ovviamente non voglio che l'Italia si stacchi non frantendiamoci perché ripeto qua rischio di essere accusato avendo fatto due video di risposta su Dugin su Orsini sono ormai un filo putiniano no io voglio io credo che stia facendo bene l'Italia per esempio infatti io ripeto sono allineatissimo a Rick Du Fer nel senso che sicuramente la pensiamo uguale nel 90% delle cose però questo è un errore Rick un errore argomentativo è una fallacia ad hominem quindi utilizzo degli elementi che non hanno niente a che fare col contenuto dell'affermazione per screditare un personaggio e farsi far apparire le sue conclusioni inesatte o sbagliate tra parentesi Orsini ha detto l'Italia deve il termine deve verbo dovere rimanda un tipo di logica che è la logica di secondo ordino modale che non ha niente a che fare con la logica di primordine che è quella deduttiva induttiva e quant'altro a cui si applicano le fallacie argomentative è molto difficile riproporre il ragionamento sulle fallacie argomentative per dovere potere e necessarie possibile per le logiche modali questo è un capitolo a parte della logica altre cose altre fallacie domina in delitto fair Orsini ha affermato che l'Unione Europea ha gran parte della responsabilità politica sulle guerre in Ucraina di nuovo Orsini nel contraddittorio e o in tv tende per semplificare conclusione non è vero che l'Unione Europea ha gran parte della responsabilità politica sulla guerra in Ucraina ma non è che se uno torniamo al discorso più generale non è che se mi capita di dire una cazzata il contenuto di tutte quelle cose che dico è sbagliato non è giusto non va ascoltato io lo so che Rick Duferre non pensa così lo so che Rick Duferre l'ha detto tante volte ognuno può pensare come vuole però mettetevi in guarda dal modo ripeto sono d'accordissimo ma facendo queste premesse che hai fatto a inizio video crei una fallace argomentativa a Dominem che polarizza lo spettatore contro Orsini vogliamo negarla questa cosa neghiamola però commetti lo stesso errore che fa Orsini questa polarizzazione che fa sì che proprio il primo che capita in virtù degli strumenti della logica cosa bellissima che io adoro e apprezzo la logica io l'adoro perché ho avuto una formazione logica come Duferre all'università quindi che primo scemo che passi io sono un scemo eccomi che critica qualcun altro magari che è trent'anni che studia quelle cose in virtù solamente del modo con cui argomenta per me è sbagliato perché è una fallacea Dominem lo si vuole criticare lo si vuole trovare un errore che commette nell'argomentazione per invalidare le sue tesi per me le tesi di qualcuno hanno valore anche in virtù di metodi inferenziali diversi sia quelli deduttivi per esempio induttivi abduttivi per esempio possono avere valore in virtù del pregresso sapere della conoscenza acquisita non che non siano confutabili non vuol dire che siano inconfutabili queste conclusioni dello studioso che lo studioso abbia autorità che ci trasmetta vuol dire che sono conclusioni che hanno più valore delle mie finché io non compio un percorso analogo a quello dello studioso studiando per pari tempo per minuto tempo acquisendo conoscenza e riduzione su quelle cose pari allo studioso e lo contesto io in tv l'ho detto anche nei video sulla guerra europea vorrei vedere contraddittori tra più 200 universitari esperti dell'argomento ursini ricca ha fatto anche il consulente speciale per il governo sull'antiterrorismo boh io dire è ovvio che commette errori argomentativi come li commetto io che sono un coglione lo ripeto eccomi qua però li commettiamo tutti ma allora chi commette errori argomentativi non è degno di essere ascoltato chi non usa argomentazioni logiche nei propri scritti come ganimberti ora ci arriviamo non è degno di essere ascoltato letto non lo so per me ripeto è una forzatura ah ultima frase ursini che questa ha fatto scappore l'ha detta in questi giorni è meglio per un bambino vivere sotto una dittatura che morire a causa della guerra ma ursini hai per semplificato potrebbe dire quindi la conclusione è non è meglio per un bambino vivere sotto una dittatura che morire a causa della guerra quindi è meglio per un bambino morire a causa della guerra non lo so non si possono trarre le conclusioni da questi assunti non è che se uno dice una cosa e qualcuno tende a ipersemplificare la sua conclusione sbagliata non è automatico ed è una fallace argomentativa nota come ad hominem veniamo a Galimberti è chiudo perché è venuto molto lungo quando Rick Dufer accusa Galimberti di essere antioccidentali in quei video famose che ho già criticato anche qua commette una fallacea dominem perché premette dicendo che c'è un antioccidentalismo che rega i filosofi come Cacciari Galimberti non dice proviamo a vedere se c'è non dice mi è venuto a mettere questa cosa con voi lo provo a verificare aiutatemi a capire come farebbe uno studioso onesto no dice no no guardate c'è l'antioccidentalismo e quindi già pubblico e polarizzato cazzo Galimberti e Cacciari sono antioccidentali come Dugin e cita il passo in cui Galimberti dice il tramonto dell'occidente è complesso di un senso racchiuso nella parola che dice terra della sera occasum eccetera l'occidente è la terra destinata a ospitare questo tramonto e dice Rick Galimberti fa spessissimo questo gioco di prendere l'etimologia dalla parola e mostrare come il senso di quella parola si manifesta nella realtà e questo è un'impostura intellettuale ma questo dice Rick porta anche all'antioccidentalismo di Galimberti perché nel passaggio seguente critica la tecnica e qua c'è una fallaccia domine premessa maggiore Galimberti chiede che l'occidente sia terra dell'occaso e che la tecnica non abbia altro fine che se stessa premessa maggiore premessa minore di Rick Duferre il metodo usato da Galimberti è quello di prendere l'etimologia della parola e mostrare il senso per come si manifesta nella realtà che ha un suo valore anche tradizionale filosofico vabbè conclusione Galimberti è un altro occidentale come Ducchi e da dove lo... come fanno queste due premesse ad essere legate nella conclusione? se uno utilizza un metodo etimologico ermeneutico chiamalo come ti pare che è anche quello di Heidegger infatti che è criticabile anch'io lo critico però se uno utilizza questo metodo non è che le conclusioni che tra utilizzando questo metodo sono necessariamente false possono essere anche vere e il fatto che possano essere anche vere in alcuni casi ovvero che possa essere vero per esempio che la tecnica e il tramonto corrisponde al tramonto dell'occidente parecchi l'hanno raccomentata questa frase in diversi modi il fatto che possa essere vero porta a questo ragionamento ad essere invalidato è una fallacia dominem faccio delle premesse sul metodo utilizzato dal personaggio e dico qualsiasi cosa che dice il personaggio prendo la frase prendo il pezzo d'audio ci metto a premessa minore una mia riflessione sul suo metodo che non trovo corretta e allora ci tracca una conclusione che non conserva la verità della premessa farnaccia domine e io quindi concludo dicendo che Rick Dufer fa spessissimo questo giochino di prendere pezzi di opere o frasi di personaggi e mostrando magari anche in modo giusto fallace e logiche argomentative con cui sono d'accordo invalida l'intero pensiero di questi autori dite voi no non è vero si ma guardate le faccine anche da lì si vede no? quindi io vorrei coniare con voi qui oggi un nuovo tipo di fallacia la fallacia ad coglionem la fallacia ad coglionem di cui l'autore rick du ferre in primis è che un tal personaggio asserisce x compiendo un errore di ragionamento chi compie un errore di ragionamento non può dire verità x non potrà mai essere vera e o giusta quindi la frase che dice un personaggio che è solido commettere errori di ragionamento non può essere mai vera o giusta e fallacia ad coglionem fatemi sapere cosa ne pensate se arrivate in fondo a questo video dite che ne so scrivete galimberti vai oggi scriviamo galimberti tutti quanti ciao alla prossima ciao rick